All'indomani di queste dimissioni il gruppo del PDL torna a chiedere le sue dimissioni, faranno anche una raccolta firme per questo. Che cosa ne pensa? La città non la pensa così, perché io quando ho modo di parlare con i cittadini ricevo molti segnali, molti messaggi di costante fiducia e di partecipazione. Tre assessori in tre anni hanno lasciato la sua squadra, lei ha mai pensato di dimettersi? Io sono una persona che quando si è presa degli impegni li porta avanti comunque, ovviamente fino a che ha il consenso per portarli avanti.